Mentre continua lo sciame sismico nel Mugello dopo la violenta scossa di magnitudo 4.5 nella notte tra l'8 e il 9 novembre, su tutto il territorio continuano le verifiche sugli edifici e il punto della situazione è stato fatto in una riunione a cui ha partecipato l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, con i sindaci di Barberino e Scarperia San Piero, i più colpiti, la città metropolitana, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le persone nelle strutture di accoglienza sono calate a 120 e la regione ha chiesto l'emergenza nazionale per i territori colpiti dal sisma. Abbiamo formalizzato la richiesta, chiaramente aspettiamo una risposta, abbiamo avuto fra l'altro l'emergenza nazionale per gli eventi del maltempo di qualche settimana fa, questo è un caso particolare ma intanto abbiamo avuto il massimo supporto perché ad esempio la convenzione che proponiamo alle strutture alberghiere è proprio quella che il Dipartimento nazionale ha sottoscritto con le principali categorie degli operatori. Intanto, mentre proseguono le verifiche sull'agibilità degli edifici, restano allestiti per l'accoglienza alla palestra di Barberino di Mugello e l'autodromo, obiettivo riaprire almeno in parte la zona rossa per far tornare le persone a casa e riaprire i negozi. Le attività commerciali sono importanti, sono importanti perché sono attività economiche e quindi di per sé importanti, ma importanti anche perché, come dire, restituiscono un po' di normalità alla popolazione, quindi sono anche importanti per le conseguenze che hanno sul resto della popolazione. Alle famiglie ancora fuori casa per l'inagibilità delle abitazioni sarà messo a disposizione un servizio di accoglienza nelle strutture alberghiere individuate dalla città metropolitana.